Partiti. In leggero di tardo Argenide, in vantaggio si porta Katie Royale con all'esterno Carpe Diem, segue Orange Intense con all'interno Sir Gandalf, ancora Cheyenne. Quindi Paranami, Erten e gli altri sgranati. Lungo la curva Katie Royale subisce l'attacco esterno da parte di Carpe Diem, i due hanno preso qualche lunghezza di vantaggio a Orange Intense che figura in terza posizione avanti a Erten e Cheyenne, quindi Sir Gandalf. Siamo in retta d'arrivo con Katie Royale all'osteccato e Carpe Diem al suo esterno, dietro i due ha postata Orange Intense con all'esterno Erten e Cheyenne. Più indietro gli altri capeggiati da Sir Gandalf, a 300 dal palo, ancora in vantaggio all'interno Katie Royale nei confronti di Orange Intense, quindi più all'esterno Erten, al centro pista sta scattando anche Sir Gandalf. Nel tratto finale lungo la corda si mantiene in vantaggio Katie Royale che si difende bene fin sul palo al posto d'onore Orange Intense su Sir Gandalf che stampa sul palo per il terzo posto Erten. Andiamo a rivedere le immagini dell'ultima e sesta corsa di Agnano con Katie Royale in vantaggio da un capo all'altro, Luca Maniezzi in sella numero 6 dello schieramento si è mantenuta ben in vantaggio difendendosi estremamente fin sul palo. Una lunghezza e mezza di vantaggio nei confronti di Orange Intense che viene apparigliata all'esterno da Sir Gandalf, quindi il secondo posto è molto più incerto di quanto si pensava al quarto Erten. Quindi primo il 6 di Katie Royale, vicini per il secondo posto l'8 di Orange Intense e il 10 di Sir Gandalf. È tutto da Napoli, a risentirci venerdì.